no vabbè dai a cazzo di cani hai visto il video Douglas? ah non l'hai visto? pensavo che lo dicevi perché hai visto il video perché ho fatto un video in Italia sulla carbonara ma tipo 4 giorni fa sulla carbonara fatta a cazzo di cane e dicevo proprio questa parola che è girata un po' e pensavo che lo dicevi a post mi fa troppo ridere comunque questa espressione no Douglas anche Douglas lo dice sempre ah si? ma anche perché lo dice sempre Sarri ma raga non andate lì a cazzo di cani quando andiamo a prestare sempre non è sempre così ciao 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 ciao